Ugo Tognazzi presenta Ricetta per una serata tranquilla Ingredienti Una tranquilla compagnia Meglio senza micione Un tranquillo maggiordomo Una bottiglia di China Martini Fate versare China Martini nei bicchieri Quindi tranquillamente Allontanate il maggiordomo E se vi riesce tranquillizzate il micione Sollerate i bicchieri e Buono e fine China Martini Piace perché buono Piace perché... E Martini E?